Avevamo concluso il video precedente dicendo che la proposta di Matteotti di far invalidare l'elezione di almeno un gruppo di deputati, quelli che secondo le sue accuse erano stati illegittimamente eletti a causa delle violenze e dei brogli, viene respinta dalla Camera con 285 voti contrari, 57 favorevoli e 42 astenuti. Possiamo procedere. Il 10 giugno del 1924, mentre si sta recando a piedi verso Montecitorio, Matteotti viene aggredito e caricato in un'auto da cinque individui che in seguito vengono identificati come membri della polizia politica fascista. Nell'auto scoppia una colluttazione e Matteotti riesce a gettare fuori dall'auto il suo tesserino da parlamentare, che viene ritrovato da due contadini presso il ponte del Risorgimento. Ma subito dopo uno dei rapitori lo colpisce a morte con un coltello. I rapitori si disfanno immediatamente del corpo del deputato, seppellendolo nella macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 km da Roma. L'assenza di Matteotti in Parlamento non viene notata la sera stessa, ma già il giorno successivo, l'11 giugno, la notizia della scomparsa è su tutti i giornali. Il 12 giugno Mussolini risponde a una interrogazione parlamentare con queste parole. Credo che la Camera sia ansiosa di avere notizie sulla sorte dell'onorevole Matteotti, scomparso improvvisamente nel pomeriggio di martedì scorso in circostanze di tempo e di luogo non ancora ben precisate. Ma comunque tali da legittimare l'ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non suscitare lo sdegno e la commozione del Governo e del Parlamento. Fine della citazione. Le indagini sull'omicidio Matteotti, coordinate dal magistrato Mauro del Giudice, portano quasi subito all'individuazione e all'arresto dei rapitori e dell'assassino Amerigo Domini. Dopo poco tempo, però, e dietro diretto interessamento del Duce, l'incarico gli viene tolto e le indagini fermate. Successivamente, Del Giudice viene allontanato dalla capitale e qualche anno dopo portato al pensionamento forzato. A ogni modo, accertato il coinvolgimento di uomini del Partito di Governo nel rapimento e uccisione di un leader dell'opposizione, uomini del calibro di Ivano Ebonomi, Antonio Salandri e Vittorio Emanuele Orlando, chiedono con forza al Re di intervenire destituendo Mussolini. Ma Vittorio Emanuele III se ne lava le mani rispondendo Io sono sordo e cieco. I miei occhi e le mie orecchie sono il Senato e la Camera. Per cercare di porre rimedio alla delicatissima situazione, il 17 giugno del 1924 Mussolini impone le dimissioni a Cesare Rossi, capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio e ad Aldo Finzi, vice capo della Polizia, indicati sia dall'opinione pubblica sia dalle indagini del magistrato del giudice come i più coinvolti nel delitto per via delle loro frequentazioni con gli uomini di Dumini. Viene dimissionato anche il capo della Polizia Emilio De Bono e il giorno successivo lo stesso Mussolini rinuncia alla guida del Ministero dell'Interno, che affida a Luigi Federzoni. Il 24 giugno viene riunito il Senato, che riconferma la fiducia a Mussolini con 225 voti favorevoli su 252. Due giorni dopo, i parlamentari dell'opposizione si riuniscono in una sala di Montecitorio, oggi nota come sala dell'Aventino, e decidono di abbandonare i lavori parlamentari finché il governo non avesse chiarito la propria posizione sull'omicidio Matteotti. L'8 luglio del 1924, approfittando dell'assenza dell'opposizione, il governo vara nuovi regolamenti al fine di mettere il bavaglio alla stampa, tra i quali l'obbligo per i giornali di nominare un direttore responsabile che poteva essere diffidato se contravveniva le leggi e il giornale stesso messo in condizione di non poter più pubblicare. Il corpo di Matteotti viene ritrovato per caso solo nella mattinata del 16 agosto dal cane di Ovidio Caratelli, un brigadiere dei carabinieri in licenza. Per l'identificazione sarà necessaria una perizia odontoiatrica, in quanto il corpo si trova in avanzata fase di decomposizione. Il 20 agosto parte da Monte Rotondo il treno che riporta Matteotti a Fratta Polesine, suo paese natale. La vedova di Matteotti, qualche giorno prima dei funerali, scrive al ministro degli interni chiedendo che al funerale non siano presenti esponenti del PNF e della milizia. PNF, partito nazionale fascista. Fin dai primissimi momenti successivi al sequestro e, ancor più dopo la scoperta che il rapimento era degenerato in omicidio, presso parte dell'opinione pubblica si diffonde la convinzione che Mussolini sia il responsabile ultimo dei fatti. Mussolini stesso, il giorno seguente al discorso di Matteotti, aveva infatti scritto sul popolo d'Italia che la maggioranza era stata troppo paziente e che la mostruosa provocazione di Matteotti meritava qualcosa di più concreto di una risposta verbale. Come potete immaginare, alcune teorie storiografiche sostengono la colpevolezza di Mussolini, altre la sua estraneità al fatto. Il già menzionato Cesare Rossi, infuriato per essere stato usato come capro espiatorio, il 22 giugno del 1924 scrive un memoriale che verrà pubblicato il 27 dicembre dello stesso anno sul giornale Il Mondo, in cui racconta dell'esistenza e del funzionamento di un gruppo di squadristi a cui veniva affidata l'esecuzione di rappresaglie e di vendette politiche. Questo gruppo, conosciuto col nome CECA, come la polizia politica sovietica, era antesignano della polizia segreta fascista chiamata OVRA, ovvero Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'antifascismo. Sempre secondo Rossi, Mussolini approvava e spesso ordinava direttamente i delitti compiuti dal CECA. Quello che accade la notte di San Silvestro del 1924 non è mai stato accertato con precisione, ma alcuni storici sostengono che una quarantina di consoli della milizia, guidati da Enzo Galbiati, comandano a Mussolini di instaurare la dittatura, minacciando di rovesciarlo in caso contrario. Comunque siano andate le cose, soltanto tre giorni dopo, il 3 gennaio del 1925, con un discorso alla Camera, Mussolini si assume personalmente la responsabilità di aver creato il clima di violenza in cui tutti i delitti politici compiuti in quegli anni erano maturati. Citiamo le sue parole. Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è accaduto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Fine della citazione. Nello stesso discorso Mussolini denuncia la strategia dell'Aventino come sovversiva e promette azioni decise contro i suoi avversari politici. Citiamo sempre le sue parole. L'Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Gliela daremo con l'amore, se possibile, o con la forza, se sarà necessario. Voi state certi che nelle 48 ore successive al mio discorso la situazione sarà chiarita su tutta l'area. Fine della citazione e fine di questo video. Vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.